Guardiamo solo la parte di su, guarda, 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 ha cominciato a formarsi le monocine a correre nel momento che ha toccato, nel momento che c'è stato il contatto elettrico ci sono le monocine. L'effetto si vede bene all'inizio, perché dopo si vede per tutte le monocine e bisognerebbe sgurlarle, toglierle e cominciare da capo. Ok, ok.